La vittoria dei gol che non t'aspetti. Il Bari batte il Castrovillari per 3 a 1 risolvendo nel finale una partita spigolosa. Alle firme inedite di Amlili e Liguori si aggiunge il sigillo di Ghiadaresta. Pronti via, Biancorossi subito vicino al vantaggio con la nuova maglia, sul tiro di Floriano che converge da sinistra, la respinta di Galluzzo è difettosa ma efficace. Il portiere calabrese sbaglia anche su disimpegno ma si riscatta sulla pronta conclusione di Piovanello. Il suo voto si alza comunque poco dopo quando Pozzebon cerca l'angolo basso su punizione. Il gioco ruvido del Castrovillari non allenta la pressione del Bari che al 32esimo la sblocca, su respinta dalla difesa Amlili trova il tempo giusto per bucare al volo la porta ospite. Gioia effimera perché la squadra di Marra pareggia subito, Pandolfi si lascia cadere sulla pressione di Amlili e Scarpa indica il dischetto. Rigore trasformato dallo stesso Pandolfi nonostante l'intuizione di Marfella. Prima dell'intervallo Ecco di Cesano in proiezione offensiva ma la conclusione è debole. Il secondo tempo si apre con un botte risposta, Rossi colpisce di testa su cross di consiglio ma Marfella è reattivo. Azione fatto copia sull'altro fronte, da un esterno offensivo all'altro, Piovanello crossa, Floriano conclude sul fondo. Entra Simeri per Pozzebon e il numero 9 si fa subito sentire trovando il rigore su un'uscita scomposta di Galluzzo. Calcia lo stesso Simeri ma la palla termina fuori. La squadra di Cornacchini accusa il colpo ma si ritrova per l'assalto finale. Minuto 40 su cross di Quagliata di Cesare Mira allo specchio ma il tocco vincente di Liguori. Diciassettesimo marcatore a salire sulla giostra del gol. E sull'ultima azione c'è gloria anche per Iada Resta, subentrato pure lui, che finalizza a portavoto un contropiede di Simeri. Altre tre vittorie sarà Serie C. Prove generali di festa martedì prossimo per i 40 anni di Brenza. Per il capitano Bianco Rosso un'altra prova a tutta classe e generosità.